E' il nostro modo di dare il benvenuto a quanti decideranno di trascorrere la propria estate sui Monti Dauni. L'Associazione Culturale Liberamente, in collaborazione con la piattaforma multimediale Roccatta Turismo, ha deciso questa volta di mettere in campo, in un vero e proprio campo, una stella, un cuore e una mezzaluna come simboli di accoglienza. La creatività e la passione per la propria terra ed il proprio lavoro come modello vincente di attrattività turistica. Un cuore, una luna e una stella giganti disegnati nei campi di grano e l'idea originale di promozione e valorizzazione del territorio, lanciata dai ragazzi dell'Associazione Liberamente e dalla piattaforma multimediale Roccatta Turismo, per accogliere i turisti che decideranno di trascorrere le proprie vacanze a Rocchetta Sant'Antonio, il piccolo comune foggiano al limite tra Puglia, Campania e Basilicata. I disegni sono stati realizzati nei campi di grano del mulino di Puglia, azienda dei Monti Dauni, che da qualche anno ha intrapreso la strada della tutela delle produzioni autottone, riscoprendo le culture dei grani antichi. La scelta di coltivare i grani duri antichi deriva da una filosofia di vita che mi ha spinto negli anni a tornare alle mie origini, alle mie radici, quindi ad avere una vita più semplice e a coltivare questi grani che hanno un carattere semplice. Tutto questo è stato fatto per valorizzare il nostro bellissimo territorio, ricchissimo sia dal punto di vista enogastronomico che da quello storico-culturale. Vi aspettiamo a Rocchetta!